Chissà che cosa ne pensa l'ospite che ci tiene battesimo questa sera in esclusiva il collegamento telefonico con noi Emiliano Mondonico Buonasera Grazie Mondonico per essere qui con noi ha avuto modo di seguire sicuramente l'ultima parte del calcio d'inizio del nostro Beppe Gandolfo Sì sì, ho sentito tutto, ce n'è per tutti Partiamo dagli arbitri, poi saliamo e arriviamo al toro Ma sì, gli arbitri fanno bene, fanno male, sbagliano alle volte ma l'importante è la buona fede poi dopo ci sono delle situazioni che chiaramente interpretano male altre situazioni che interpretano diversamente però fare l'arbitro non è un mestiere facile secondo me bisogna dargli una mano se gli diamo in testa diventa tutto meno capibile e chiaramente procura più dei dubbi che non delle certezze l'errore dell'arbitro fa parte della partita di calcio come l'errore di un attaccante davanti alla porta come l'errore di un difensore che non prende l'avversario diciamo che il gioco del calcio è bello anche perché ci sono questi errori umani io non sono tanto per la tecnologia io sono per quello che si vede anche se chiaramente è sempre difficile perché c'è chi che sa un po' nascondere bene le cose malfatte che fa e fa sembrare il contrario di quello che succede sul campo però c'è questa prova televisiva che chiaramente dovrebbe alla fine far capire a tutti che non si possono in campo fare determinati gesti perché la cosa che mi dà più fastidio sono queste trattenute in area di rigore sulle pali inattive dove c'è sempre un fallo contro, un fallo favore sapendo che tutto quanto viene smarcherato ma anche questo fa parte del nostro modo di fare calcio perché da altre parti c'è molto più fair play sono molto più buoni e noi invece pensiamo sempre di essere i più furbi finché la va finché la va mister noi la terremo con noi tutta la sera ma non vogliamo rubarla alla famiglia passiamo a parlare di toro ma arriviamo poi anche ai mondiali quindi non possiamo quando abbiamo Mondonico in trasmissione non parlare del toro diceva Beppe giustamente una bella stagione è peccato per l'Europa sì sarebbe una stagione straordinaria raggiungere l'Europa non dimentichiamoci che è il toro sì poi dopo capita che si retrocede in serie B capitano annate e annate disastrose ma non si può dimenticare cos'è il toro che cosa vuol dire il toro e perciò è chiaro che lottare per la salvezza mi sembra abbastanza riduttivo il toro deve essere là deve essere là a lottare a lottare dove conta io penso ancora che possa anche quest'anno nelle ultime sei partite cercare di lottare di lottare con squadre come come il Parma come l'Atalanta come il Verona e cercare proprio di far diventare con l'ingresso in Europa una stagione straordinaria per il resto penso che rispetto all'anno scorso sicuramente il toro è migliorato per quanto riguarda la classifica ma essendo il toro diciamo che fa parte della normalità almeno come la vedo io poi dopo invece può darsi che sia tutto diverso può darsi che il calcio sia cambiato e che il toro o anche il toro lottando per salvarsi debba fare una stagione una stagione straordinaria però io parlando del toro direi che lo straordinario è la conquista dell'Europa Mister c'è la nostra redazione che vuole ancora spremerla un pochino a partire da Giovanna Arballo Buonasera Mister saluto voi senta invece parlando di mondiali con vocazioni di oggi Cerci, Immobile, Darmian quindi continuiamo a parlare di toro però riferito ai mondiali cosa ne pensa lei soprattutto di un giovane come Darmian potrebbe effettivamente poi arrivare proprio ai mondiali oltre che a vestire la maglia nazionale in occasioni precedenti? Ma Darmian penso che abbia la grande capacità di giocare sulle due fasce perciò a Prandelli piacciono molto questi giocatori che occupano più ruoli perché in caso di bisogno non è che deve stravolgere la squadra in campo ma deve solo cambiare ruolo senza passare a delle sostituzioni tecniche dalla panchina oggi ne hanno convocati tanti in nazionale ed è bene ed è bene che siano dei giovani che si mettono in evidenza io penso che Prandelli abbia già in testa un po' la sua nazionale e con questi test con questi chiamarli vuol rendersi conto se c'è qualche piacevole sorpresa prima dal punto di vista fisico dopo e dopo chiaramente dal punto di vista tecnico-tattico diciamo che è stato un bel lavoro anche da parte del Citi Prandelli per quanto riguarda i tre ragazzi del Toro penso che l'abbiano meritato meritato sul campo e perciò speriamo speriamo che sia di buon auspicio per il mondiale in Brasile importante è pensare che quelle che valgono più di tutti sono le ultime partite io mi ricordo un giocatore del Toro Scoro che faceva benissimo le prime cinque e le ultime cinque e veniva sempre riconfermato questo per dirvi l'importanza che hanno le ultime partite sull'impatto così un po' di chi deve giudicare Mister, grazie grazie per essere stato con noi sei pronto per l'applauso? abbiamo Gandolfo in studio che è pronto per far partire un applauso grazie per essere stato con noi buon fine settimana Emiliano Mondonico grazie per essere stato con noi grazie per essere stato con noi Grazie a tutti